Eccomi qua Ciao ragazzi, ciao ragazze Nuovo video, le mie ossessioni Video visto da Derry Bruno Nel suo canale appunto Ciao Federica, un bacione Sei fantastica Mi lascio sul link per andare a vedere il suo canale Se ancora non la conoscete Le mie ossessioni sono Scopriamole insieme 1. Comprare abbigliamento Io amo fare shopping Io amo comprare cose modaiole Anche se la moda non la seguo La moda solo io, no scherzo La moda non la seguo alla lettera Però io amo comprare abbigliamento E vi faccio vedere una cosa che ho comprato ultimamente Che sto amando alla follia Anche se sembro un animale spracchiato Questa qui è la maglia che ho comprato ultimamente Ho fatto negli outfit, è morbidissima Voi non potete immaginare che meraviglia Questa maglia ragazze Poi profuma Il profumo della pupa che ci ho spruzzato un weekend passato Mamma mia profuma ancora È tipo un piumone Quando mettete sotto le coperte Che fuori fa freddo Io amo i piumoni E mi metto sotto le coperte E mi metto le coperte fino in fronte Questa maglia qua Quando la tenete addosso Uno fa Tiene caldissimo Mamma mia Poi è morbido Che bello Anche a mio marito piace Quando tocca la maglia Dicevo come sei morbida Oggi così morbida Amore Ho scuoiato qualche animale Mi dispiace Però è veramente stupenda Questa maglia Bellissima Questa qui l'ho presa da Piazza Italia Se vi interessa Ho fatto il video haul Questa qui è la maglia Bellissima Morbidosissima Io amo comprare Soprattutto le maglie Come abbigliamento Non so voi Ma io l'abbigliamento Lo amo alla follia Maglie Jeans stretti Ho comprato anche un poncio Amo veramente fare shopping Di abbigliamento E soprattutto anche di cose Per la casa Scritte Lampadari Tavoli Sedie Tovaglie Tovagliette Cuscini Mi piace tantissimo Comprare guanti Per il forno Mi piace comprare Comunque tantissime cose Per la casa Anche se faccio Pochi video haul Sulla casa Ma tanti video haul Sull'abbigliamento Muohohoho Non riesco a farlo Poi Un'altra mia passione Sono Le caramelle Il cioccolato Il mio tesoro Com'è? Le caramelle Queste qui Le ho prese al Carrefour Muoho Al latte Toffee Sono buone Preferisco quelle Della Elac Creme liquizia Sono buonissime Anche queste Una tira l'altra Però dopo che ne avete Mangiate 6 o 7 O comunque una decina Vi viene la nausea Quindi è meglio Non esagerare Però io Amo questo rumore Amo Amo le caramelle Sentite Che bello Willy Wonka Sono peggio di Willy Wonka Io Amo il cioccolato Le schifezze Le patatine Gelati Vivrei di cose dolci Tutto l'anno Io assolutamente Quindi È una passione Sfrenata Per dei dolci Come nello shopping Seconda Ossessione Veramente Sono matta Per la roba dolce Poi sto sempre male Però questo è un altro discorso Seconda Le caramelle Le cose dolci In generale Non tutti i dolci Poi Oh madonna Oh madonna Poi Come sicuramente Avete capito Amo Il make up Però C'è un però C'è un però Amo il make up Però Non mi so truccare Quindi Mi limito A comprare Il meno possibile E visto che di make up Devo imparare a truccarmi Per ora Non ho ancora imparato Compro smalti O vestiti E di smalti Ve ne faccio vedere solo alcuni E mi piacciono tanto Quelli della Essence Ultimamente Ho comprato anche però Quelli di Kiko Allora Questi qua sono tre smalti Che mi piacciono tanto Questo qui di Kiko Numero 251 Bellissimo Fucsia Molto estivo Questo qui viola Vecchissimo Numero 154 Pink E Proud Proud Quindi brillantini Meraviglioso Anche se è un po' secco Di Essence Ultimo Smalto comprato Questo qui Rosso autunnale Bellissimo Molto molto scuro Effetto gel Rosso appunto scuro Che sembra rosso chiaro Con la luce artificiale Con la luce solare Ma è un rosso molto scuro Numero 14 Do you speak love Do you speak love Spicchiamo love insieme Spicchiamo amore Amore Con 10.000 N Amamamore Amo gli smalti Anche se potrebbero Questar di meno Seconda Anzi Terza mia ossessione Se non compro make up Compro gli smalti Anche se ultimamente Non compro molti smalti Diciamo che Legata all'ossessione Degli smalti C'è l'ossessione Degli rossetti Io amo ultimamente I rossetti Soprattutto quelli di Essence Che sono low cost Anche se mi piacerebbe Comprare Prodotti di marca Libramo Rossetti della MAC Della Nabla Neve Cosmetics Mi frullano in testa Questi nomi Tutti i giorni Mi sogno anche di notte Però non me li posso permettere Questo qui Ve lo faccio vedere Il numero 02 Olio Needs Red Rosso della Essence Bellissimo Super pigmentato Sembra lucido Ma è abbastanza Matte Bello 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 Bellissimo Anche il packaging Stupendo Costa 2,50 euro Mi piace veramente Stra 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 Tantissimo Io Love I rossetti Li love Li love Amore Amo i rossetti Alla follia Anche se non sono brava a truccarmi Lo dico già da sola Poi Ultima Ma non ultima Per importanza Mia ossessione Uuuu Uuuu Facciamo la ola Uuuu Cosa pensate che sia La mia quinta ossessione O quarta Preparatevi Preparatevi Siete pronti La mia ossessione Più pazza Sono le Dai che lo sapete Sono le Qual è la mia ossessione Peggiore A parte i dolci Dai 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 Chi mi conosce Anche se non dal vivo Lo sa Quali sono le mie ossessioni Le mie passioni Più sfrenate Sicuramente avete indovinato Ecco qui Signore e signori Le candele Fischi di tromba Rullo di tamburi Le Yankee Candle E le candele Ikea Piccola parentesi Che differenza c'è tra queste qui Delle Ikea E tra queste qui Della Yankee Allora Yankee Seconda Yankee La prima era Midsummer Night E non mi piaceva Questa qui mi piace tanto Ma mio marito me la spegne Perché per lui è troppo dolce Antipatico Mio marito Sì lo critico Sì sì perché mi spegne le candele Questa qui è costata cara Ma è buonissima Red raspberry Mamma mia Mi viene voglia di mangiarla Che buona Invece questa qui Sinlig Gelato alla vaniglia È buonissima Dolcissima Da spenta profuma Da cesa Non si sente quasi niente O comunque poco Peccato 40 ore E costa poco Questa qui invece costa di più Anche se la jarra piccola Comunque della Yankee Queste qui Yankee Candle costano abbastanza Invece queste qui dell'Ikea Costano 3 euro O massimo 5 E ce n'è un bel bicchierone Adoro Ikea Adoro fare shopping Ve l'ho detto prima Le cose di casa Io le amo E le candele Fanno parte delle cose di casa Questa qui Mi piace tantissimo Il packaging Il colore Il profumo Il disegno Red raspberry Mi piace tantissimo Non riesco bene ad aprirla Ma no Ok Solo da spenta Profuma tantissimo Di marmellate di frago Le ribes Frutti rossi Mamma mia Mi viene di mangiarla Non si deve mangiare Però farei così Tipo gelato Buonissima Veramente Non so se ce ne avete anche voi Comprerò altre Yankee Consigliatemele Perché tutto YouTube Parla solo di Yankee Candle Questa qui è la seconda Yankee La tengo come una reliquia Perché non voglio che finisca Io non posso spendere tanto Perché L'acqua è poca La papera non galleggia Però amo le candele Assolutamente Quelle che profumano E ne trovo poche Che profumano da accese Queste sono Queste sono le mie ossessioni Vi adoro Spero vi piaccia questo video Un bacione Commentate E A presto Stay tuned Ciao Grazie a tutti.